Il Porto d'Ascoli batte in rimonta all'Avezzano e passa il turno in Coppa Italia. Gara giocata a porte chiuse, in un Riviera delle Palme, dal terreno decisamente in cattive condizioni. Tra gli uomini di Ciampelli manca Fallin disponibile nell'ultimo minuto, tridente d'attacco composto da Clerici, Pacchioli e Spagna. Nell'Avezzano in campo l'ex Alessandro Pendenza, in coppia con Dos Santos. Parte bene il Porto d'Ascoli che nell'arco di due giro di lancette si fa vedere dalle parti di Gerbic. Al secondo è Battista a provarci, ma il suo tiro è ribattuto dalla difesa bianco-verde. Poi è Petrini a provare la conclusione, che è deviata in angolo. Al ventesimo D'Alessandro colpisce di testa da azione d'angolo, ma il pallone sfila sul fondo. Un minuto dopo si fa vedere per la prima volta l'Avezzano, con una conclusione dell'ex Pendenza che viene parata a terra da testa. Trascorrono due minuti e i partitori di casa vanno vicinissimi al vantaggio. Battista entra in area e calcia. Ribattuto, sulla palla vagante si avvente il giovanissimo Pacchioli che coglie in pieno il palo. Al trentacinquesimo, con un lampo, arriva il vantaggio abruzzese. Dos Santos difende palla alla grande, un pallone spalla alla porta e nonostante la pressione di Evangelisti riesce a girarsi e a scagliare un pallone sotto l'incrocio dove testa non può arrivare. La reazione degli uomini di Ciampelle è immediata. Al trentacinquesimo ci vuole tutta la bravoa di Gerbic per evitare il pareggio su una punizione ben calciata da Battista e indirizzata all'angolino. Nella ripresa rientra in campo un portodasco deciso a ribaltarla e già dopo 50 secondi si fa vedere con Battista che serve Spagna sponda per Pacchioli che spara alto e da buona posizione. Al decimo ancora Battista che scende lungo l'auto di sinistra serve Clergy che spara verso la porta ma Gerbic è strepitoso a deviare in corner di piede. Dalla bandierina nasce il pare di De Rivieraschi. La palla giunge a Evangelisti che ci prova dalla lunga distanza sorprendendo Gerbic forse coperto. Uno a uno. Gli uomini di Ciampelli insistono al quarto d'ora è ancora il classe 2004 Pacchioli che salta tre uomini poi serve Spagna ma il suo diagonale è largo e si spegne sul fondo. Al ventitreesimo uno scatenato Battista si avviene entrato Caprioli ma Gerbic questa volta si salva. Si arriva al trentunesimo quando Caprioli calcia una punizione dal limite disegnando una perettoria a Beffarda che sorprende Gerbic forse soppeso a un velo di Pacchioli. La Vezzano non ha più le forze per reagire e il portodascolo si guadagna la sfida di domenica prossima all'Angelini contro il Chieti. Si un po' di rammarico c'è sapevamo che incontravamo comunque una squadra organizzata come il Portodascoli che questo è il secondo anno che fa questo campionato forse anche a livello fisico diciamo è avanti a noi quindi si c'è rammarico però diciamo è la prima partita comunque si va avanti e lavoreremo queste due settimane per farci comunque trovare pronti fra due domeniche e al momento va bene così. Sì diciamo che siamo partiti diciamo forti in maniera forte senza paura è normale che poi il secondo tempo siamo scesi a livello fisico comunque siamo ancora un po' indietro di condizione fisica e queste due settimane dispiace essere usciti da questo turno però sono comunque importanti per mettere un po' di benzina nelle gambe e farci trovare pronti già dal 4 settembre. Sì abbiamo fatto una buona partita sia nel primo che nel secondo tempo chiaramente nel secondo tempo poi abbiamo concretizzato anche se poi l'abbiamo fatto in situazioni non così pulite come le occasioni invece create. Abbiamo fatto un buon primo tempo anche da un punto di vista tecnico non era facile sia per il valore dell'avversario che anche per le condizioni del campo dispiace dirlo ma è la verità e poi nella ripresa siamo stati pazienti lucidi non abbiamo avuto la fretta di riprendere tutto e subito sapevamo di avere armi anche dalla panchina per poter riprendere la partita e sono particolarmente contento per i ragazzi perché questo è il nostro punto di partenza è il nostro punto di partenza e da oggi sappiamo che ci sarà da lottare da faticare tantissimo anche in questa stagione per raggiungere il nostro obiettivo.